Musica Si è spento all'età di 88 anni il vescovo emerito di Fano Monsignor Mario Cecchini venerdì il funerale al Duomo di Senigallia Incendio alla rimessa di scuola Busacogli al Metauro individuato dopo un anno e mezzo il responsabile del rogo lo avrebbe fatto per vendetta Marche Sicure continua lo screening di massa nell'area Vasta 1 dal 16 al 21 gennaio coinvolti 12 comuni delle zone di Orciano, Colli al Metauro, Gradare e Vallefoglia Pubblicati sul sito della regione i dati sull'andamento dell'epidemia a due mesi dall'interrogazione di Luca Serfilippi sono online tutti i numeri dei contagi comune per comune Disposti a tutto pur di riaprire Umberto Carriera parla su Fano TV dell'iniziativa di venerdì prossimo una cinquantina agli imprenditori del territorio che alzeranno la saracenesca ma c'è chi non condivide questa forma di ribellione Non è corretto andare contro la legge Non dovrebbe aprire, dovrebbe utilizzare altre strade Si rinnova la protesta a Metauriglia di Fano Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia In primo piano la morte del vescovo emerito di Fano Monsignor Mario Cecchini positivo al Covid-19 Cecchini è deceduto questa mattina in una casa di riposo di Senigallia Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci È morto alle 11.45 di oggi a Senigallia Monsignor Mario Cecchini, vescovo emerito della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola Aveva 88 anni ed era malato da tempo Il decesso è avvenuto nella casa di riposo Opera Pia Mastrai Ferretti di Senigallia Mario Cecchini era nato a Piticchio di Arcevia, diocesi di Senigallia Il 25 gennaio 1933 Ordinato presbitero il 16 marzo 1958 Eletto alla sede vescovile di Fano Fossombrone Cagli Pergola L'11 febbraio del 1986 Ordinato vescovo il 16 marzo dello stesso anno E divenuto emerito l'8 settembre 1998 Da vescovo di Fano ha iniziato le trattative con il Vaticano Per l'acquisizione dell'ex seminario regionale Lavorò intensamente per l'unificazione delle quattro diocesi di Fossombrone, Cagli e Pergola Con quella di Fano Inoltre volle e inaugurò il santuario di San Giuseppe in Spicello di terre roveresche Colpito da Ictus ha continuato a lavorare per la diocesi fanese senza particolari problemi Ormai cieco e immobile ha trascorso gli ultimi anni di vita nella casa di riposo per sacerdoti e laici Positivo al Covid-19, Cecchini è deceduto per complicazioni dovute a diverse patologie pregresse La Camera Ardente verrà allestita nella cappella dell'Opera Pia Mastrai Ferretti A partire da domani mattina alle ore 9 Mentre il funerale si terrà a venerdì 15 gennaio alle ore 15 nel Duomo di Senigallia E passiamo all'operazione portata a termine dai carabinieri che hanno individuato l'uomo che più di un anno fa avrebbe incendiato la rimessa di autobus scolastici a Colli al Metauro Si era vendicato innescando il rogo l'uomo di mezza età residente nella provincia pesarese individuato dai carabinieri dopo un anno e mezzo di indagini Era la notte del 20 maggio del 2019 quando un incendio era divampato nella rimessa di automezzi nella zona artigianale di Colli al Metauro Coinvolti diversi veicoli del trasporto scolastico municipale Lo scenario che si era presentato agli inquirenti e ai soccorritori aveva lasciato più di un dubbio sulle cause che lo avevano innescato I militari intervenuti avevano il sospetto che l'origine fosse di natura dolosa e che conseguenze ben più gravi erano state evitate solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco L'incendio infatti si era prorogato in tutto il garage e verso il tetto della struttura Le indagini da subito in salita sia perché le fiamme avevano distrutto eventuali tracce ed inneschie del comburente utilizzato sia per l'assenza di segni di effrazione per introdursi all'interno erano state avviate dai carabinieri della stazione di Colli al Metauro e poi condotte dai colleghi del nucleo investigativo di Pesaro Urbino e dalla sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica Il delitto preso in considerazione era quello di incendio aggravato Dopo lunghi mesi di lavoro la persona ritenuta responsabile è stata individuata Si tratta di un ex dipendente della cooperativa di Foggia avente appalto i mezzi di trasporto L'uomo ancora prima della emissione dell'avviso di conclusione delle indagini emesso dall'autorità giudiziaria ha avanzato la richiesta di patteggiamento In base alla ricostruzione dei fatti l'uomo spinto da motivi di rancore personali aveva maturato l'intenzione di vendicarsi innescando il rogo che ha colpito un servizio primario per famiglie e minori Il suo obiettivo sarebbe stato quello di creare un disservizio durato diverse settimane oltre ad un allarme sociale L'attività delle forze dell'ordine ha permesso così di escludere anche scenari criminosi ben più gravi e allarmanti inizialmente ipotizzati per le modalità con le quali è stato commesso il delitto E sono più di 16.000 i tamponi eseguiti in questi giorni a Fano, Marotte e Colli al Metauro ma da sabato prossimo partirà lo screening di massa per altri comuni Sentite I numeri che chiamo possono andare per esito negativo 12.02-12.03 Grazie, arrivederci È un bilancio positivo quello tracciato dal direttore dell'area Vasta 1, Romeo Magnoni che questa mattina ha illustrato i dati e i progetti dello screening di massa Oggi si è concluso quello di Fano, Mondolfo, Cartoceto e Monbaroccio ma a giorni partiranno i tamponi per altri comuni Rispetto all'ultima tornata che era più o meno intorno all'1% siamo al 0,69% di positività è un pochettino più bassa Rispetto alla prima tornata di screening abbiamo fatto una mattinata in più per non costringere i dipendenti a riportare tutto alla sera tardi quindi diciamo che siamo soddisfatti dello screening anche perché come ho sempre detto è la prova del 9 per quando cominceremo a fare le vaccinazioni di massa a tutta la popolazione I dipendenti hanno lavorato con entusiasmo ha detto Magnoni e i cittadini hanno apprezzato lo sforzo Sabato poi partirà lo screening per questi 12 comuni Fino a giovedì 21 gennaio ci si potrà sottoporre al test dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 19 Abbiamo cercato di aggregare i comuni perché se no era impossibile riuscire a portare sia il personale sia il materiale nei vari comuni e abbiamo messo che per quanto riguarda i comuni di Coglio del Metauro, Mondavio, Montefelcino, Monteporzio e Terraro Vereschi hanno individuato due siti che sono la palestra comunale di Orciano e Terraro Vereschi e il bocciodromo di Tavernelli in località Coglio del Metauro Per quanto riguarda i comuni di Gabicce Mare, Gradara, Montelabate, Tavuglia, Vallefoglia, Petriano, Montecalvo in Foglia hanno individuato invece il palazzetto dello Sport nel comune di Gradara e il Palavitri a Montecchio di Vallefoglia Ancora da stabilire invece i presidi per i comuni di Fossombrone, Pergola, Caglie e per le zone del Montefeltro State valutando anche di utilizzare questi stessi siti per le future vaccinazioni? Si sa già una data? Possiamo dare un'indicazione? Allora ancora la data in merito non l'abbiamo perché prima dobbiamo vaccinare, finire di vaccinare tutti i sanitari tutti i dipendenti del servizio sanitario, tutti i convenzionati ma soprattutto i pazienti delle case di riposo e dell'RSA quindi in base a quello ci arriveranno anche i vaccini perché i vaccini è strettamente collegato al numero di vaccinazioni che riusciamo a fare ma secondo me in un paio di mesi qualcosa in più potremmo sicuramente averla Abbiamo già vaccinato quasi mille persone ci spiega il direttore e la prossima settimana potremmo partire con le case di riposo Tengo a ringraziare e ci tengo personalmente tutto il personale sanitario che ha dato la disponibilità al di fuori dell'orario a fare questo tipo di attività perché? Perché l'hanno fatto in maniera importante e quindi siamo riusciti a dare risposte adeguate a quello che erano gli impegni regionali sullo screening Per quanto riguarda la vaccinazione, chiaramente io sono un medico igienista, per me la vaccinazione è di fondamentale importanza quindi però siamo in uno stato di diritto in cui la vaccinazione è facoltativa l'importante è che chi non vuole fare la vaccinazione non condizioni gli altri a non fare la vaccinazione mi sembra che il messaggio che tutti insieme dobbiamo dare è questo qua E ancora decessi nelle marche legate al coronavirus Nelle ultime 24 ore sono morte 18 persone, di cui 10 della provincia di Pesero e Urbino Invece i nuovi positivi sono 480, di cui 81 nella provincia pesarese Inoltre dopo l'impennata di ricoveri segnalato ieri più 38 negli ospedali nella regione il numero è rimasto invariato, è 667 in calo e degenti in terapia intensiva ma in aumento quelli in semi-intensiva E da ieri sul sito della regione è possibile vedere il numero dei contagi in ogni comune La richiesta in consiglio era stata avanzata da Luca Serfilippi L'assessore Saltamartini rispondendo a un'interrogazione del PD ha comunicato ufficialmente che la regione ogni giorno aggiornerà la pagina dei contagiati comune per comune Questa è una risoluzione votata da tutto il consiglio regionale circa due mesi fa di cui ero primo firmatario e proponente Sono felice che la regione finalmente distribuisca questo dato perché già dai primi giorni emerge una situazione molto chiara forse che i cittadini non percepivano quello che i comuni come Fano, la vallata del Metauro in questo momento c'è un alto tasso di contagiosità cioè ci sono tanti positivi con lo screening di massa stiamo trovando anche gli asintomatici ma i positivi continuano a aumentare giorno per giorno quindi l'invito è a monitorare comunque la situazione di ogni comune anche i sindaci avranno questo strumento che è stato chiesto da tanto tempo e quindi benvenga questo nuovo strumento maggiore attenzione a parte di tutta la cittadinanza continuiamo a vivere la nostra vita ma sempre con le precauzioni e adesso la cronaca una donna è stata investita questo pomeriggio a Fano in via Roma all'altezza della farmacia Ercolani intorno alle 17.45 secondo i primi rilievi la donna una 41enne del posto stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una 39enne alla guida di un mezzo furgonato l'avrebbe investita per cause ancora in fase di accertamento la donna è stata trasportata dai sanitari del 118 al Torretti di Ancona sul posto due pattuglie della polizia locale di Fano e traffico rallentato questa mattina lungo la statale adriatica tra Fano e Pesaro a causa di un incidente avvenuto all'altezza del bar notturno un uomo alla guida di un Opel Zaffira transitava in direzione Pesaro quando ha superato le auto in corsa dalla parte opposta però stavano sopraggiungendo una Fiat Panda e un mezzo dell'Asur la prima è riuscita ad accostare evitando l'impatto ma il secondo è andato a sbattere contro la Panda per poi scontrarsi con una tiroc incolonnata con a bordo un bimbo di pochi mesi sul posto i vigili urbani anche in questo caso è il 118 che ha trasportato le quattro persone rimaste ferite in modo lieve al pronto soccorso e sono una cinquantina nella nostra provincia ma 50.000 in tutta Italia i baristi e i ristoratori che venerdì prossimo apriranno i locali contro il decreto del governo oggi Angelica Panzeri ha raccolto il parere di cittadini e di imprenditori ma anche intervistato il protagonista il promotore della protesta Umberto Carriera il ristoratore Umberto Carriera proprietario di sei locali tra Pesaro e Fano torna di nuovo alla ribalta e lui uno dei principali promotori assieme ad altri colleghi italiani di Io Apro manifestazione di disobbedienza civile così l'hanno chiamata che venerdì 15 gennaio lo vedrà aprire i suoi locali anche per cena dunque dopo le 18 non sarà il solo gli organizzatori della manifestazione parlano di oltre 50.000 adesioni in tutta Italia l'iniziativa potrebbe coinvolgere oltre a Carriera altri ristoratori del territorio provinciale ma i nomi non sono stati ancora resi noti non è un caso che l'appuntamento sia stato fissato per il 15 gennaio vigilia delle entrate in vigore del nuovo DPCM che dovrebbe prevedere misure ancora più restrittive per bar e ristoranti stremati da mesi di chiusura gli operatori del settore contestano la proroga dello stop alle cene se non per consentire la consegna a domicilio ai clienti e l'asporto che però stando alla bozza del decreto potrebbe essere vietato dopo le 18 per i bar da qui l'idea di una protesta pacifica che prenderà la forma della disobbedienza civile la rivolta viaggia sui social con gli hashtag io apro e non spengo più la mia insegna non è politica, non è una manifestazione, non è una protesta ma è un'assoluta necessità anche qui in città abbiamo decine di ristoratori di baristi alla canna del gas rischiano lo sfratto non sanno più come pagare le bollette quindi ci siamo messi assieme in Italia a quei 3 o 4 ristoratori che hanno un po' tirato le corde noi in questi mesi con delle disobbedienze civili ma io le chiamerei più con delle obbedienze costituzionali tutti i protocolli verranno rispettati anzi abbiamo diramato un DPCM autonomo con ulteriori restrizioni per dimostrare al governo che siamo disposti davvero a tutto pur di aprire i nostri ristoranti quindi i conti si faranno veramente alle 21.45 poi tutti a casa? sì assolutamente 21.45 conto al tavolo anche perché noi siamo in grado in grado tramite la nostra task force di legale di oltre 30 studi associati in tutta Italia di tutelare gli imprenditori ma soprattutto anche i clienti e i cittadini che vengono all'interno delle nostre case all'interno delle nostre attività una volta fuori ci copri fuoco da rispettare quindi ognuno pensa per sé alle 22 bisogna essere tutti a casa nella peggiore delle ipotesi se doveste prendere una multa che cosa accadrà? come farete? se dovessimo ricevere delle multe ovviamente faremo ricorso come abbiamo fatto in tutti gli altri casi ovviamente vinceremo se ci sarà un numero elevato soprattutto nelle nostre zone Pesaro-Fano se diverse centinaia di bar e ristoranti terranno aperte capiamo che sarà impossibile insomma avere un organo di controllo ma ripeto anche la parola controllo secondo me non ha senso perché vogliamo semplicemente lavorare e il grande sostegno di centinaia di cittadini che stanno telefonando tutti gli esercenti per chiedere se aderiranno e vorranno pronotare per noi è una cosa molto importante che tipo di riscontro ha avuto dai colleghi pesaresi altri aderiranno oltre a lei a questa iniziativa? abbiamo già 50 adesioni di bar e ristoranti e la stragrande maggioranza c'è gli altri 150 esercenti hanno tutti dato un sì di massima cioè aspettano di capire i numeri ovviamente l'obiettivo è aprire tutti intanto tra i cittadini pesaresi c'è chi è di accordo con Carriera e chi invece non lo è affatto se non moriamo di covid moriamo di fame dicono i ristoratori e qualche ragione ce l'hanno assolutamente almeno la polizia può andare a fare dei controlli cosa che non può fare nelle case private non è corretto andare contro la legge quindi non dovrebbe aprire non dovrebbe aprire dovrebbe utilizzare altre strade assolutamente a favore perché secondo me dopo un po' bisogna fare basta dato che tutte le misure contenitive hanno limitato poco il covid quindi bisogna provare a convivere con la malattia invece che chiuderci in casa anche io sono assolutamente a favore perché comunque i ristoratori stanno morendo di fame e dobbiamo farli lavorare con le giuste precauzioni Tra le nuove misure al vaglio del governo contenute nella bozza del DPCM in uscita per venerdì 15 gennaio c'è anche il divieto di asporto per i bar dopo le 18 una restrizione volta a contrastare la movida al di fuori dei locali che potrebbe penalizzare ulteriormente gli operatori del settore già stremati dal continuo alternarsi di aperture e chiusure Purtroppo abbiamo visto che nonostante le chiusure che ci hanno fatto fare in questo mese i contagi non sono scesi quindi ormai è subentrato un misto tra delusione e arrabbiatura e lo si nota sia tra noi del settore sia tra la gente Il governo sta valutando anche di vietare l'asporto dopo le 18 per i bar questo che cosa comporterebbe? Ma questa è una cosa ridicola cioè nel senso allora o fai chiudere tutto ripeto stiamo tutti un mese a casa con gli aiuti necessari è vero si dirà non ci sono i soldi questo non aspetta a noi o si fa chiudere tutti e stiamo tutti a casa non come l'ultima zona rossa dove purtroppo la gente in teoria doveva stare a casa ma come abbiamo visto erano tutti in giro anche se c'era bisogno dell'autocertificazione nessuno diciamo ha controllato mentre invece noto che da quando siamo tornati in zona gialla magicamente perché i bar e i ristoranti ci sono aperti ci sono nuovamente i controlli quindi vuol dire che c'è una confusione incredibile guarda su questo Covid e i ristori per molti non sono sufficienti nemmeno a pagare le bollette ma sicuramente ci potrebbe penalizzare per il discorso degli aperitivi quelle cose lì anche se in realtà comunque dopo le 18 non è che c'è tantissima gente però insomma magari qualcosina in più sicuramente aiuterebbe per alzare un attimino il lavoro e ristoritalia insieme al direttivo della tutela nazionale imprese ore che ha preso le distanze da questa iniziativa la sicurezza della salute si legge in una nota non può passare in secondo piano per proteste speculative che pubblicizzano soltanto i pochi artefici approfittando del malcontento e della rassegnazione di molti colleghi è giusto protestare spiega il portavoce Lorenzo Vedovi ma ci sono modi corretti per farlo il fine è quello di ottenere risultati per la categoria colpita da una pandemia non quello di aumentare i disagi solo per mera propaganda e si rinnova anche la protesta dei residenti di Metauriglia di Fano dai teli rossi sono passati alle bandiere per chiedere una viabilità più sicura il servizio di Letizia Marchionni aderisco alla circoscrizione per una forma di protesta per eliminare il traffico pesante dalla statale è un simbolo che spera che faccia effetto presso gli organi competenti il comune cambia il look ma non gli obiettivi continua la protesta civile pacifica dei residenti lungo la statale adriatica Metaurilia che però sostituiscono i teli rossi con bandiere dello stesso colore una viabilità più sicura resta questa la priorità per i residenti e per il comitato noi di Fano Sud a cui si aggiunge la richiesta della costruzione di una pista ciclabile nel tratto Metaurilia-Fano che permetta a residenti e turisti di spostarsi in sicurezza e senza prendere la macchina siamo l'unico tratto che non ha ancora il progetto ha commentato la portavoce del comitato noi di Fano Sud Sonia Campanelli notizia fresca di due giorni abbiamo saputo che il comune finalmente ha affidato l'incarico di fare il progetto e questo veramente lo riteniamo un risultato che forse è grazie anche alle nostre richieste pressanti una volta che questa strada diventi comunale allora è possibile cambiare completamente la viabilità e anche l'attuale situazione perché ci sono tutti i fossi da intubare perché come vedete qui non si riesce nemmeno a camminare a piedi è pericolosissimo tantomeno andare in bicicletta quindi una volta che abbiamo una pista ciclabile per chi va in bicicletta un camminamento pedonale diciamo è sicuro un abbassamento della velocità alcune rotatorie cambia completamente la vivibilità della strada e degli abitanti la regione perlomeno ci hanno detto che l'assessore Baldelli che nella sua campagna elettorale aveva proprio inserito nel suo programma questa nuova strada che dovrebbe collegare l'interquartiere di Fano che è arrivata fino alla tombaccia fino giù al casello di Marotta si è preso ha avuto proprio l'incarico dalla regione di portare avanti questo progetto anche lì abbiamo speranze il drappo rosso simboleggia anche un altro problema che affligge Metaurilia l'avanzamento del mare che spiega Campanelli ha raggiunto la ferrovia apportando danni alle varie concessioni balneari addirittura in alcuni punti l'acqua passando per i sottopassi è arrivata ad allagare anche gli orti dei residenti la questione tocca in prima persona i bagnini che attendono la gara d'appalto riguardante i lavori per spostare più a largo le scogliere dalla foce del fiume fino alla chiesa di Metaurilia è un primo stralcio già finanziato con oltre 4 milioni di euro le scogliere dovranno essere iniziate il 2019 come avevano sempre detto sia le ferrovie che il comune di Fano siamo al 2021 ancora non si sa né la data di quando iniziano né quando finiranno poi questo è solo il primo pezzo l'altro pezzo non so quando andrà a finire nel 2030 2040 cioè qui la situazione è grave l'acqua ogni volta che fa una piccola mareggiata arriva di sopra le scogliere non tengono più sono tutte cadute molti sassi sono andati giù non tiene più e quindi non so che turismo Fano vuol fare siamo la zona dove c'è più turisti di Fano e non siamo presi in considerazione per niente un grossissimo sbancamento dell'arenile subito proprio a ridosso della ferrovia che quindi è un pericolo stesso perché è a 4-5 metri dai binari covid truffa medici giornalisti e politici criminali dopo la segnalazione arrivata in diretta durante primo cittadino con il sindaco serie riguardante le scritte offensive sulle cabine dell'enile in via della Bazzia via 4 novembre l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori si è subito attivata per i controlli del caso e questa mattina ha dato disposizione a regresso arti di rimuoverle l'associazione ha eseguito i lavori con tempestività tant'è che nel pomeriggio i contatori erano già puliti e sempre in merito alle vostre segnalazioni oggi ci ha scritto un nostro telespettatore per farci sapere che dopo la segnalazione sulle buche in località prelato a Fano a cui abbiamo dedicato un servizio nel telegiornale di ieri si è già mosso qualcosa vorrei ringraziare voi e il sindaco si legge nel messaggio del signor Angelo perché stamattina ho visto che hanno iniziato a chiudere le buche e il numero per le vostre segnalazioni è sempre lo stesso 338 49 68 250 tra poco trasmetteremo un video di presentazione dell'istituto Donorione di Fano e allora buona serata su Fano TV arrivederci a chiuderemo